in automatico metto la misura del pannello 2mm, 200mm 480mm 20mm 20mm poi per tagliare un Y schiacci Y metti 200mm fai invio 2 pezzi poi si deve testarli fai X invio 500mm un pezzo se vuoi fare 700mm fai invio un pezzo fai ancora X un pezzo un pezzo fai pure una prova di taglio automatico come vuoi dire quale dai quanto vuoi rimanere di rifilo dietro 20mm che ci invio a pal 20mm 21mm 21mm 40mm Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.